Nel procedere della vita pubblica, in un passo successivo del Vangelo di Giovanni, Gesù dirà, io sono il buon pastore, le mie pecore conoscono me ed io conosco loro e le chiamo ciascuna, una per una, per nome. Gesù ci chiama per nome, Gesù ci incontra a tu per tu, Gesù ci guarda negli occhi, ci dona questa salvezza. Vogliamo comprendere anche noi le dinamiche dell'annuncio del Regno di Dio. Vogliamo evangelizzare, fare la prova anche noi a portare una lieta notizia, la gioia del Vangelo a coloro che oggi incontreremo, a coloro che oggi si avvicineranno a noi. Chiediamo a Santa Rosa da Viterbo e a San Pio da Pietrelcina di essere in grado di diventare missionari della parola, portatori della gioia e naturalmente anche portatori di salvezza. Così sia.